recensione del blackberry priv terminale molto atteso almeno da me eccolo qua colorazione nera classica molto molto bello materiali per me ottimi al tatto il grip è fenomenale una cosa che non si vede sempre guardate qua come tiene bene in mano che abbiamo uscita micro sb jack per le cuffie e tasti volume tasto per scatto qui sopra abbiamo slot micro sd slot nano sim tasto power e ovviamente slide ok parliamo un po di questo telefono questa recensione divisa diciamo in due parti questa più la parte tecnica hardware siccome al primo blackberry con android e c'è un bel po da raccontare ho deciso di fare un focus a parte in un altro video delle funzioni software introdotte da blackberry anche diciamo in parte scorciatore da tastiere eccetera quindi faremo un focus apposito su questo software di blackberry per adesso sblocco con doppio tap sempre utile il device va molto bene lo schermo veramente bello luminosissimo adesso la luminosità è abbastanza bassa anzi come vedete è minima è a zero ma guardate tenendolo già così quanto va bene quanto va bene la luminosità al sole alla luce naturale veramente ottima un ottimo pannello 5.4 pollici qhd fluidità veramente forse non da riferimento comunque molto buona faccio un po vedere come a usarlo e multitasking l'ha superato le prove tranquillamente invece a reggere tranquillamente bene tutto siamo nel nel menu batteria batteria per me veramente ottima ovviamente forse non quella migliore mai vista ma poco ci manca perché sono riuscito ad arrivare anche a 6 ore di schermo acceso quindi batteria veramente buona 3450 mh in dotazione non removibili chiaramente cover non removibile come magari ha su altri blackberry come lo z30 in passato diciamo che mi piace molto il peso comunque è contenuto l'audio in casa adesso andremo subito a testare la canzone la solita ma vi prometto che a breve cambieremo un po cambieremo un po cambieremo un po allora l'audio l'audio è buono diciamo la musica la cassa principale questa qui sotto che vedete tra lo slide la parte inferiore e sì come qualità è buona come volume non tanto non è come come potete sentire non è altissimo neanche nelle suonerie neanche nelle suonerie neanche nelle suonerie uno suoni di notifica è molto alto cioè si riesce a sentire anche tranquillamente però non è altissimo e per me l'audio in speaker cioè dalla cassa lasciamo perdere quello in chiamata che è buonissimo per me come toni come volume eccetera anche quello in cuffia però dalla cassa diciamo qua in fondo per le notifiche per i video per la riproduzione musicale non è il massimo l'unico neo la cosa in cui potevano impegnarsi un pochettino di più percezione ottima mi ha soddisfatto tranquillamente tanto vi faccio vedere la tastiera retroilluminata molto bella e anche degli effetti touch e anche touch pratica dopo andremo tutto ad annizzare con più calma nel focus dell'interfaccia delle funzioni specifiche di questo blackberry qui per far vedere ancora un po' meglio lo schermo bianchi veramente bianchi no sono sono veramente soddisfatto non mi capita sempre di dirlo nonostante testi tanti device top di gamma fotocamera fotocamera è un'altra cosa che mi ha stupito un attimo solo ecco qua l'ho trovata la fotocamera mi ha stupito le foto sono veramente ottime anche qui non siamo su livelli proprio livelli tipo v10 o not 5 che reputo ancora i migliori sul mercato però per essere un blackberry considerando la qualità degli altri device considerando che altri top di gamma fanno peggio le foto vengono veramente bene nitidezza in generale contenimento di rumore veramente veramente ottime le foto un passo notevole rispetto ai blackberry precedenti il software è abbastanza abbastanza opzioni alla fine qualità fotografica ecco qui potevano far scegliere fine o standard qui fotografie più limitate impostazioni video linee griglia non sono tantissime le opzioni abbiamo diciamo quelle più classiche i filtri flash l'hdr vengono molto bene anche le foto con hdr quindi scusate quindi le foto se guardiamo il risultato vengono veramente bene l'interfaccia della fotocamera è piuttosto invece limitata allora di cos'altro si può parlare per adesso posso dire che come telefono per me è molto molto completo considerando la trattazione come telefono anche l'effetto edge più contenuto rispetto ai samsung s6 edge ed edge plus lo spessore c'è ma è comunque tollerabile no sinceramente è forse uno dei migliori di quest'anno almeno considerando le scelte che sono state fatte le premesse il prezzo ovviamente è molto alto siamo attorno agli 800 euro sui 750 euro ma vi posso garantire che è un device che merita veramente tanto per adesso è tutto in questa mini recensione il resto verrà verrà detto in ampia parte nella recensione del software di questo blackberry privo al prossimo video